Sabato 13 vi aspettiamo al Forum, noi siamo i Lions, siamo questi volontari con questo gilet giallo diffuso in tutto il mondo. Siamo la più grande associazione internazionale accreditata poi all'ONU. Vi aspettiamo per lo screening della salute, perché i Lions sono e saranno sempre presenti sul territorio per tutelare la salute. Sabato 13 faremo lo screening del diabete, lo screening cardiologico e saranno presenti presso il centro commerciale Forum di Palermo che ringraziamo per la sua graziosa ospitalità, l'autoemoteca della DVS per la donazione del sangue e sarà presente anche l'ADEMO, l'associazione donatori di midollo osseo per chi volesse già iscriversi al registro dei donatori. È un momento decisamente importante, assieme a voi potremo fare tante cose e rispondere alle tante esigenze di salute che ci vengono richieste da più parti. Ricordatevi, sabato 13 avremo anche presenti dei non vedenti, i nostri amici accompagnati dai loro occhi a quattro zampe. Loro ci faranno vedere qual è l'importanza di questo supporto a quattro zampe e come in realtà i Lions da tempo si dedicano alla formazione e all'educazione di questi cani guida presso il centro di Limbiate in Lombardia. Ok, una sola parola, venite tutti, vi aspettiamo!